Risvegliare le attività della consulta delle associazioni culturali è l'obiettivo primario di Vito in Serra dell'Associazione Liberamente, che è diventato nuovo presidente dell'organo consultivo fanese dopo le dimissioni per motivi di lavoro di Maria Flora Gianmarioli. Dopo circa tre anni in Serra vorrebbe riportare alla luce anche l'evento Fanno Cultura. Per questo nei prossimi giorni contatterà una ad una le associazioni che ne fanno parte, circa 50, per verificare la volontà di collaborare in questa iniziativa. D'altra parte l'assessore Stefano Marchegiani ha sottolineato l'importanza delle proposte e dei suggerimenti avanzati dai cittadini e ha dato la massima disponibilità ad incontrare periodicamente i componenti della consulta. La visione nostra è quella di costruire cultura di cittadinanza. E per dare questo contributo avete stabilito un'agenda con l'assessore Marchegiani? Sì, abbiamo avuto un chiarimento istituzionale e politico di reciproco rispetto e della rispettiva autonomia per quanto ci riguarda. Abbiamo dato anche alcuni aggiustamenti di rappresentanza nella Fondazione del Teatro e nella Commissione Consiliare in tal senso e abbiamo detto che comunque avremo un'agenda precisa di scadenza mensile in cui ci confronteremo tutti i mesi per quanto concerne le questioni della cultura in questa città nostra che è così pruriginosa e così interessante.